ciao a tutti vi presento la mia nuova campana tibetana sono un pochino emozionato io di solito batterista fracassone perché oggi ho acquistato questo oggetto che tra poco vi farò sentire è un oggetto antico molto prezioso sentite che meraviglia riuscite a sentire le onde sonore meravigliose a a Avete capito che non è solo uno strumento, vero?